Buongiorno a tutti, siamo qui a San Giovanni Marignano nello studio magazzino con Luigi e anche quest'anno siamo finalmente pronti per lanciare la notte più attesa dell'anno il tema che caratterizza la ventinovesima edizione della notte delle streghe è la maschera l'assumere le sembianze e trasformarsi ovviamente in strega da qui lo slogan essere o apparire ognuno di noi a proprio modo potrà quindi diventare una strega o sentirsi strega semplicemente addossando una maschera o lasciandosi tramagare dalla festa esatto, maschera che quest'anno troverete direttamente sul folder di ispirazione origami rispetto all'immagine del manifesto principale che si potrà semplicemente stampare piegare e grazie ad un elastico che vi verrà fornito potete anche indossare e sentirvi a vostra volta streghe o maghi eh sì, questo tema ha lanciato un ulteriore suggestione alle 22 ogni sera in piazza Silvani ci sarà una vera e propria animata per streghe chi vorrà indossare la maschera folder che sarà vestito da strega, un nuovo colletto e ascoltate bene ci sarà un selfie stregato dall'alto e non solo, ognuno di voi potrà fare una propria foto pubblicare su Instagram o lascia essere o apparire quindi seguitici o su Facebook o su Instagram e cosa volete fare? volete essere o apparire?